Musica Quello che vi ho appena mostrato è un'alzata di gamba dritta seduti. Con questo esercizio si riesce a rinforzare in modo attivo il quadricipite. Come fare per eseguire questo esercizio? Andiamo a posizionarci con la gamba sinistra piegata, quindi teniamo la pianta del piede sinistro in appoggio e pieghiamo il nostro ginucchio. La gamba destra, che è la gamba che sta lavorando in questo momento nel corso di questo esercizio, andiamo a tenerla completamente distesa con la punta del piede a martello. Solleviamo pure la nostra coscia. Durante tutta l'esecuzione dell'esercizio la gamba non deve mai toccare per terra, quindi tenendo al massimo la punta del piede a martello e la gamba tutta bella distesa e sollevata dal pavimento, allunghiamo le braccia verso l'alto. Cerco di tenere la schiena dritta e l'addominale contratto. Vado ad unire le mie mani con la punta del piede, avvicinando in avanti, quindi con la mano destra e sinistra tocco la punta destra, andiamo giù e ritorniamo. Quindi salgo e vado. Io non mi muovo con le spalle, quindi il movimento non deve essere questo, di andare a spingere in basso le spalle, ma sono solo le braccia che vanno verso la punta del piede che in contemporanea sale. Quindi il movimento è questo. Cerchiamo sempre di non andare a piegare il ginocchio in modo da avere più efficacia sul nostro muscolo quadricipite. Ciao e buon allenamento! Grazie a tutti!